Parcheggiare in città, come si sa, è sempre un incubo, ma il problema non riguarda solo le grandi metropoli. Anche le piccole realtà turistiche come la nostra si trovano a combattere con quest'annoso problema, soprattutto in estate, quando viene una grande concentrazione di traffico veicolare e gli spazi restano calibrati per un numero decisamente inferiore d'utenti. E allora che fare? Nei comuni albani, come nel resto d'Italia, la soluzione è una sola, la sosta a pagamento, con tanto di ticket, segna ora, ma non tutti sembrano gradire questo servizio. A Portoferraio, la zona delle Ghiaie e il molo dell'Alto Fondale sono da pochi giorni tornati a pagamento e forse anche per la crisi, da questa zona c'è il fuggi-fuggi generale, a svantaggio delle altre parti della città ancora total free. Dovrebbero togliere i ticket e lasciarlo come prima. Guardi, è talmente pieno l'inverno quando non si paga, che ben venga un pochino di anche raccattare qualcosa per il comune, e va bene, insomma, si paga quel poco, va bene uguale. Avendo messo tutto a pagamento qui per accedere nel centro storico, la gente ha difficoltà poi a venire tutte le volte a trovare dei soldi per poter prendere i ticket e metterli sulla macchina. E in più hanno difficoltà perché chi vorrebbe venire, deve stare 10 minuti, un quarto d'ora, non trova disponibilità per il centro. È valiatissimo secondo me, magari potevano fare a pezzi, una parte a pagamento e una parte libera, come fanno in tutti i posti. I parcheggi se li mettono anche a pagamento rovinano tutto.